Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI, tratto riaperto e incidente risolto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Permangono code a tratti tra Firenze e Ginestra Fiorentina e in uscita la Strassigna sempre in direzione mare. Ancora verso Livorno, 3 km di coda per lavori tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze per lavori, 1 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino e un altro km di coda tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. In A1 rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!